Ero regina. Ora sono schiava. Anche se qualcuno è uno schiavo ha la stessa carne. Nessuno è mai nato schiavo per natura, ma è la sorte che rende schiavo il corpo. Con questa massima, il comediografo Filemone, tra fine IV e inizi III secolo a.C., ribaltava la concezione aristotelica della condizione schiavile come stato di natura. Ma già nelle rane di Aristofane, la commedia con cui nell'ultimo scorcio del V secolo a.C. si chiudeva la grande stagione del teatro classico ateniese, Euripide si attribuiva il merito di aver conferito uguale diritto di parola a donne e schiavi come ai padroni e agli altri personaggi dei suoi drammi, rivendicando la natura democratica di questa scelta. Il suo rivale, Eschilo, gli rispondeva a Muso Duro che proprio per questo avrebbe meritato di essere condannato a morte e in effetti riconoscere pari dignità a donne e a schiavi, cioè ai due soggetti esclusi in attica dal privilegio della cittadinanza riservato ai cittadini nati liberi e di sesso maschile, è del tutto irrituale rispetto alle norme basilari del sistema democratico ateniese. Doveva risultare in effetti disturbante, oltremodo disturbante, che Euripide dilatasse il principio di uguaglianza ben oltre i limiti vigenti nella polis ateniese e che gli schiavi, massicciamente presenti nei suoi drammi, avessero una propria personalità e svolgessero pensieri elevati, ragionamenti filosofici o politici, tanto più disturbante se la schiavitù era quella delle donne, pergiunta prigioniere e straniere, le quali, vivendo una condizione di duplice subordinazione, cioè rispetto all'universo maschile e rispetto all'orizzonte cittadino, si pongono all'intersezione delle due categorie più ai margini della società greca antica. Strettamente connessa alla dialettica libertà schiavitù e l'opposizione greci barbari, giacché la gran parte degli schiavi, ad Atene e in tutto il mondo greco, aveva origine straniera. Nel comune sentire i due concetti finivano per collimare. La guerra rappresentava una delle principali cause dell'abbandono della patria d'origine e della perdita della libertà. Le donne in particolare venivano spartite tra i vincitori come bottino di guerra, fatte prigioniere, stuprate o private dei figli, e nella migliore delle ipotesi, quando cioè si trattava di figure di stirpe nobile o regale, rese concubine dei vincitori ai quali generavano nuovi figli. Nell'Andromaca, nell'Ecuba e nelle Troiane, Euripide elabora un'articolata riflessione sul tema della schiavitù al femminile, che viene ad intersecarsi con una non meno elaborata riflessione sulla condizione dello straniero o della straniera, perché le donne di Troia, che siano regine, principessi oppure anonime donne del coro, sono al contempo straniere e dunque barbare, e donne che, dall'essere libere, a causa della guerra, si ritrovano ridotte in schiavitù. Questa riflessione, che si inserisce nel solco della critica antibellicista condotta a più riprese nelle tragedie euripidee nei confronti di Atene, doveva risultare di scottante attualità, in particolare nelle tragedie di guerra al femminile, portate in scena nel teatro di Dioniso ad Atene negli anni XX e negli anni X del V secolo, cioè nel ventennio che segnò l'accelerazione decisiva verso la catastrofe delle sorti di Atene, segnò la fine della grande saggione della democrazia periclea e post periclea e la fine dell'imperialismo atenese. Queste dunque le tre tragedie euripidee da cui sono tratti i brani che ascolteremo stasera dalla voce di Anita Caprioli. Cominciamo dall'Andromaca. La data di composizione dell'Andromaca, incerta ma comunque collocabile con ragionevole approssimazione tra il 427 e il 425 e dunque nella prima metà degli anni XX del V secolo, quindi nel periodo, come dicevo prima, di massimo espansionismo e massimo inasprimento dell'imperialismo atenese nei confronti delle città alleate della Lega Tereoattica, un periodo che vide Atene protagonista di memorabili episodi di violenza e di sopraffazione perpetrati ai danni delle poleis, determinate a rimanere neutrali nella guerra con Sparta e anche nei confronti delle città alleate, dicevo che appunto la rappresentazione dell'Andromaca risente in particolare della drammatica vicenda di Mitilene che fece in Atene non poco scalpore. Di cosa si tratta? Nel 427 l'Assemblea Popolare Atenese approvò in un primo momento la proposta di far uccidere tutti i cittadini maschi adulti della città di Mitilene, nell'isola di Lesbo, perché questa città si era ribellata all'imperialismo della polis turannos, quindi di Atene, e Atene deliberò appunto di vendere come schiavi donne e bambini salvo poi ripensarci e mutare in extremis il deliberato dell'Assemblea. Tucidide narra della trireme lanciata all'inseguimento della trireme che precedentemente era stata inviata ad Atene a Mitilene. Narra dell'arrivo quasi simultaneo nel porto della città delle due navi, la seconda delle quali annullò la sentenza di morte già pronunciata dalla prima trireme, ma comunque decretò la schiavitù dei mitilenesi, degli abitanti della città. Ebbene, alla fine del prologo dell'Andromaca, in una monodia elegiaca che rappresenta un unicum in tutto il teatro tragico greco, la protagonista, che si rifugiata presso il Tempio di Teti per sottrarsi alla persecuzione dei suoi nemici, i suoi nemici sono Ermione, la figlia di Elena e suo padre Menelao, la protagonista appunto, che dal titolo al dramma Andromaca lamenta la triste condizione di schiava nella quale è precipitata. Lei, che un tempo era sposa ricca e invidiata del principe troiano Ettore, ha visto invece morire il suo sposo per mano del greco Achille e ha visto il loro figlio Astianatte cadere dall'alta rocca della città, e ora è schiava del vincitore Neottolomo, il figlio di Achille, al quale ha peraltro dato un figlio. Nella parodo, cioè nel canto d'ingresso del coro sulla scena, dopo generiche espressioni di solidarietà e di compassione che accentuano la condizione di isolamento, di emarginazione, di debolezza in cui versa ora la schiava troiana, le donne del coro che sono donne di Ftia, della città della Tessaglia, di cui era stato sovrano Peleo e poi suo figlio Achille e ora il nipote Neottolomo, le donne del coro dicevo rivolgono ad Andromaca il pressante invito ad arrendersi al potere che la sovrasta e sottolineano la gravità della situazione in cui Andromaca versa. Con l'ingresso in scena di Ermione, appunto la sposa sterile di Neottolomo che non sopporta di dividere il marito con una prigioniera di guerra e con quel suo figlio semibastardo, e che è ossessionata dall'idea di diventare lei schiava di una concubina, lei che prima ne era padrona, e che perciò è decisa ad uccidere entrambi madre e figlio, si apre tra le due donne, appunto Andromaca ed Ermione, un serrato scontro dialettico. La principessa greca rinfaccia ad Andromaca di giacere con il figlio dell'assassino di Ettore, suo marito, e giudica questa condotta abietta al pari della poligamia e dell'incesso, la giudica una perversione propria della razza barbara a cui Andromaca, la troiana Andromaca, appartiene. Andromaca, fiera della propria precedente condizione regale e coniugale, ricorda di aver amato con Ettore anche i figli nati dalle sue relazioni extraconiugali, ed invita Ermione a rivedere il proprio punto di vista nel segno di un relativismo etico che sgretola le granitiche certezze del pubblico atenese. Andromaca pone una serie di domande ironiche alla sua antagonista, domande con cui confuta le accuse che la rivale le ha mosso, e compie così un'abile operazione dialettica di reduccio ad absurdum degli argomenti dell'interlocutrice. Per esempio le chiede, se tu fossi la donna di un uomo di traccia, dove un solo uomo è comune a più donne, che faresti? Le uccideresti tutte? Andromaca rivela tutta la sua superiorità dialettica su Ermione, ma il fatto che Ermione venga sconfitta in questo confronto verbale con Andromaca non migliora la situazione della schiava Andromaca, tanto a conferma dell'insufficienza del potere del Logos e persino della forza persuasiva del linguaggio sofistico di fronte alla violenza bruta che regola i reali rapporti di forza tra vincitori e vinti, tra padroni e schiavi. E peraltro, al netto della malizia con cui, nelle parole conclusive della sua arringa difensiva, Andromaca rievoca la spregiudicatezza di Elena, madre di Ermione, nei suoi rapporti con gli uomini, spregiudicatezza che, come noto, è stata la causa della guerra di Troia e che fa di Elena un modello deteriore per tutte le donne, ma in particolare per sua figlia, in tutto il discorso di Andromaca, cioè di chi a partire di una donna che a partire da una iniziale condizione di prosperità, di nobiltà, regale e di libertà è stata degradata al rango di schiava e deprivata dei propri diritti, si avverte il bisogno di costruire una nuova forma di felicità, una felicità potremmo dire di grado ridotto, alla quale aggrapparsi disperatamente. Pur nella coatta sottomissione, infatti, lo schiavo può giungere a provare affetto per il proprio padrone. Ascoltiamo dunque le parole di Andromaca, il commento del coro, la replica della sua rivale Ermione e le decisive e dirimenti, considerazioni che, come controreplica, Andromaca le rivolge. All'alta rocca di Troia, Paride condusse nel suo letto Elena, non sposa, ma sciagura nuziale. Fu per colpa sua, o Troia, che ti mise a ferro e fuoco e ti distrusse l'are sfulminio della Grecia, con le sue mille navi. E il figlio di Teti, alla guida del carro per mia sventura, trascinò intorno alla cinta delle mura Ettore, il mio sposo. E io stessa fui condotta dal letto nuziale alla riva del mare e mi cinse il capo la schiavitù odiosa. E molte lacrime mi colarono sul viso quando abbandonai la mia città, le mie stanze e il mio sposo nella polvere. Oh, me infelice, perché guardare ancora la luce del sole se sono la serva di Ermione? Lei mi tormenta e io abbraccio questa statua della dea e la supplico e mi struggo come un rivolo di acqua sorgiva che stilla da una pietra. Oh, donna, che da molto tempo stai seduta a terra nel santuario di Teti e non te ne allontani. Io sono diftia, ma anche se sei di stirpe asiatica, eccomi qui da te per vedere se trovo un rimedio che ricida il groviglio inestricabile delle pene che avvinghiano te e Ermione in una contesa odiosa o infelice per il doppio letto nuziale in cui ti spartisci con lei un uomo solo, il figlio di Achille. Riconosci la sorte, rifletti sulla disgrazia in cui sei caduta, ti scontri con i tuoi padroni, tu che sei una donna di Troia con chi è di stirpe spartana. Allontanati dalla dimora della dea marina che riceve i sacrifici in suo onore. A cosa ti serve cedere al terrore e versare lacrime che ti deturpano sotto il gioco dei padroni? Il loro potere ti perseguiterà, perché ti affanni se non sei nulla? Su, allontanati dalla sede rifulgente della dea, la Nereide. Sappi che sei schiava straniera in terra straniera, dove non puoi incrociare lo sguardo di persona amica o sfortunatissima infelicissima fanciulla. Donna Troiana, provai pietà per te quando giungesti alla reggia dei miei padroni, ma me ne sto in silenzio, anche se ti compatisco, perché ho paura che la figlia di Elena, figlia di Zeus, si accorga della mia benevolenza nei tuoi confronti. Sono venuta qui con una corona d'oro sul capo e queste vesti variopinte che fasciano il mio corpo non sono le cose più belle della casa di Achille o di Peleo, ma donne di Menelao, mio padre, e provengono da Sparta, come la mia ricca dote che mi dà la possibilità di parlare liberamente. È così che vi rispondo. E tu che sei una schiava, una donna predata in guerra, vuoi cacciarmi dalla casa e impadronirtene? E per colpa dei tuoi filtri il mio sposo mi odia e il mio ventre avvizzisce esterelito. La mente delle asiatiche è tremenda in questo genere di intrighi, ma ci penserò io a fermarti. E non ti servirà a nulla questa sede della figlia di Nereo, né il suo altare né il sacrario, perché morirai. E se un umano o un Dio vorrà salvarti, invece di esibire la boria da ricca di un tempo, dovrei farti piccola, umiliarti, prostrarti alle mie ginocchia, pulire la mia casa, versando con le tue mani l'acqua della chelo o da vasi d'oro. Così capirai in che terra ti trovi. Qui non c'è Ettore, non c'è Priamo, non oro, ma una città della Grecia. Povera disgraziata, sei arrivata a un punto tale di follia che hai il coraggio di andare a letto con il figlio di chi ha ucciso tuo marito e partorire figli agli assassini. È tutta così la razza dei barbari. Il padre si unisce con la figlia, il figlio con la madre, la sorella con il fratello e si ammazzano tra congiunti e non c'è legge che lo proibisca. Ma non introdurrai presso di noi questo genere di consuetudini. Non è bello che un solo uomo tenga le redini di due donne. Chi vuole vivere serenamente deve guardare una sola sposa, amare solo lei. È brutto essere giovani per i mortali, se sono giovani e coltivano ingiustizia. Ho paura, non vorrei che la mia situazione di schiava mi impedisse di parlare anche se ho molti argomenti validi. E se dovesse avere la meglio, temo di procurarmi guai. Chi è tracotante non ama essere sconfitto in una disputa da chi ritiene inferiore. Ma non mi sorprenderete tradire me stessa. Dimmi, ragazza, di quali argomenti fondati potrei avvalermi per fare in modo che tu venga rifiutata a nozze legittime? Che Sparta è inferiore a Troia e mi vedi libera? Oppure spavalda del mio corpo giovane e fresco e per la potenza della mia città e dei miei amici voglio impadronirmi della tua casa e sostituirmi a te? O forse vorrei partorire al tuo posto un fardello triste di figli schiavi? Oppure sopporteranno che siano i miei figli a regnare suftia se tu non ne metterai al mondo? Forse i greci mi adorano grazie a Ettore? E io ero forse una donna qualunque e non la regina dei frigi. Tuo marito non ti odia per colpa dei miei filtri ma perché non sei adatta a convivere con lui. Anche questo è un filtro d'amore. Non è la bellezza o donna ma sono le virtù a dare gioia a chi spartisce il letto con noi. Se qualcosa ti indispettisce ecco che Sparta è una grande città e Sciro non conta nulla ai tuoi occhi e tu sei ricca in mezzo dei poveracci e Menelao ti diventa migliore di Achille. È proprio per questo che tuo marito ti detesta. Una donna anche se ha sposato un uomo spreggevole deve volergli bene, evitare di entrare in conflitto con lui. Se tuo marito fosse un re della traccia ricoperta di neve dove un unico sposo spartisce a turno il suo letto con molte mogli tu uccideresti le altre. In questo caso dimostreresti che tutte le donne sono insaziabili di sesso. Che vergogna! È vero che noi donne soffriamo di questa malattia più dei maschi ma la dissimuliamo bene. Oh mio amatissimo Ettore, se Afrodite ti corrompeva io condividevo con te le tue passioni e più di una volta ho offerto il mio seno ai tuoi figli illegittimi per non amareggiarti. È così, con la mia virtù attirava me il mio sposo, ma tu con le tue paure non lasci neppure che su tuo marito si posi una stilla di rugiada caduta dal cielo. Donna, non tentare di superare nella passione per i maschi colei che ti ha messo al mondo. Le figlie, se sono sagge, devono evitare le cattivi abitudini delle loro madri. L'Ecuba, portata in scena nel 424, è ambientata sulle spiagge del Chersoneso Tracio, di fronte alla città di Troia, lì dove è allestito l'accampamento dell'esercito greco di ritorno dalla spedizione. Ecuba è qui prigioniera dell'esercito greco e da prigioniera, dopo aver patito la perdita di innumerevoli figli, tra i quali anche il prediletto Ettore, dello sposo Priamo e della sua patria, assiste a un ulteriore estremo orrore, cioè al duplice omicidio di due suoi giovani figli innocenti. Polissena, sacrificata sulla tomba di Achille, e Polidoro, l'ultimo discendente maschio di Priamo, ucciso da Polimestore, il re di Tracia, al quale era stato affidato da bambino, e che dopo la caduta della città elimina il principe troiano per appropriarsi del suo oro. Quello perpetrato da Polimestore dopo la caduta di Troia è un crimine orrendo, non solo perché è perpetrato contro le sacre leggi dell'ospitalità, ma anche perché è perpetrato per mera vedità di denaro. Questo orrore è un orrore distanziato, sì dal filtro del mito, ma in verità è un orrore attualissimo se si pensa proprio al progressivo indurimento della politica atenese. Un caso tra tutti emblematico, che fa da sfondo alla messa in scena di questo dramma, è la esemplare e scioccante punizione inferta solo un anno dopo alla cittadina di Scione, cittadina della Calcidica, che si è ribellata ad Atene nel corso della guerra. La popolazione di Scione, la popolazione maschile di Scione, venne falcidiata e subì la stessa sorte che toccherà poi, dieci anni dopo, agli abitanti dell'isola di Melo. Ascolteremo ora il monologo in cui Polissena, che è la sorella di Ettore e, dicevo, la giovane figlia di Ecuba, e che i greci hanno deciso di sgozzare sulla tomba di Achille come vittima sacrificale, affinché l'eroe defunto renda propizio il loro ritorno in patria, dichiara di essere pronta ad andare incontro al proprio destino di morte, perché questo destino le eviterà le umiliazioni della schiavitù. L'eroina insiste sulle incombenze che le sarebbero toccate qualora lei, invece di essere sacrificata, fosse stata comprata in cambio di danaro o fosse stata costretta ad accoppiarsi a un altro schiavo comprato chissà da dove. Le sue parole riflettono la realtà della condizione schiavile ad Atene nel V secolo, condizione che è ben diversa da quella rispecchiata dai poemi omerici, nei quali le prede femminili vengono semplicemente ripartite tra i capiachei, come pure diversa dalla schiavitù di tipo ilotico di matrice spartana, che è l'altra forma di schiavitù esistente nel mondo greco, che garantiva però ai servi i loti un lotto di proprietà e una pur limitata autonomia. Invece il servo atenese è uno schiavo merce, e lo schiavo merce è alla base dell'economia domestica e pubblica atenese ed è escluso da qualsivoglia diritto. Quindi, per Polissena, lasciare la vita liberamente significa anzitutto rifiutare di essere degradata a questo, a oggetto di uno scambio commerciale, rifiutare di diventare una schiava merce. E per questo, come ascolteremo ora, Polissena sceglie di morire eroicamente piuttosto che patire il dolore della schiavitù, che è una sofferenza che il suo rango non merita. Vedo, Odisseo, che nascondi la destra sotto il mantello e giri la faccia da un'altra parte finché io non possa toccarti il mento. Nessuna paura. Non dovrai rispondere di me a Zeus, protettore dei supplici. Perché io ti seguirò. È questo il mio destino. E desidero morire. Se rifiuterò penseranno che io sia infame e codarda. Ma perché dovrei vivere? Mio padre era re dei frigi. Così. Così cominciò la mia vita. E poi fui cresciuta nella bella speranza di diventare sposa di un re. E sorgevano contese non da poco per decidere chi avrei sposato, con chi sarei andata ad abitare. Ero la regina, povera me, delle donne dell'Ida. E le vergini mi guardavano con ammirazione. Ero pari agli dèi, se non fossi stata mortale. Ma adesso sono schiava. Ed è soprattutto questo titolo a cui non sono abituata a farmi desiderare la morte. E poi potrei imbattermi in padroni crudeli che mi comprerebbero a suon di denaro. Proprio me, la sorella di Ettore e di molti altri valorosi. E mi costringerebbero a fare il pane nella loro casa, a pulire, a filare il telaio, trascorrendo la giornata nel dolore. Uno schiavo comprato non si sa dove profanerà il mio letto, che un tempo era ritenuto degno di un re. No, lascio la luce dei miei occhi da donna pienamente libera, consegnandomi all'Ade. Portami via, Odisseo, e mentre mi porti via uccidimi. Non mi lascio illudere dalla speranza di vivere prima o poi nella gioia. Madre, non ostacolarmi con le tue parole o con le tue azioni. Sì, mia concorde consigliera di morte, prima che io cada nella vergogna senza essermelo meritato. Chi non è avvezzo alla sventura sa sopportare, ma soffre a mettere il collo sotto il gioco. Molto meglio morire che vivere. È un grande strazio, vivere nell'infamia. La scena dell'uccisione di Polissena ruota attorno al tema della salvaguardia della libertà. Nel momento in cui sta per consumarsi sacrificio umano, il figlio di Achille, mio Tolemo, ordina a un gruppo di giovani Achei di immobilizzare la vittima, ma Polissena ottiene di essere sciolta dai lacci e di morire da donna libera. Dice lasciatemi libera perché libera io muoio. Denuda il petto e lo offre come fosse un intrepido combattente alla spada di Neottolemo, o in alternativa chiede di essere colpita alla gola che invece è il punto del corpo prescelto nell'uccisione delle vittime sacrificali, quindi come un animale. Neottolemo, dopo un momento di smarrimento dinanzi al corpo statuario e denudato di Polissena eroica e patetica al contempo, sceglie di colpire la gola e Polissena muore con dignità, coprendo mentre cade quelle parti del colpo che gli occhi degli uomini non devono vedere. Colpisce in questa scena la compresenza dell'eroico patetismo del sacrificio con una nuanza erotica del denudamento di questa eroina, donna combattente che muore da soldato. Offrendo il proprio corpo, il proprio seno, nudo alla vista dei soldati, Polissena esibisce la sua spiccata femminilità e incute il timore reverenziale nei suoi stessi carnefici, che si spingono ad onorare il suo corpo con la fiullobolia, con il lancio delle foglie, come si suol fare ad esempio con gli atleti vincitori, quindi con i giovani maschi aristocratici, e con le offerte, la pira, un vestito, un ornamento per le mani, come si fa con le vittime sacrificali, ed evita così che del suo corpo si faccia scempio post-mortem. Sacrificandoli veramente la propria vita, ella decide di non vivere da schiava e di non morire da vile, ed in cambio ottiene di mantenere il proprio status di donna libera e nobile. Ascoltiamo dunque uno stralcio del commosso racconto del sacrificio di Polissena dalle parole di Taltivio, l'araldo dei greci, quindi dei vincitori, il quale però non riesce a restare indifferente, anzi è profondamente turbato da questo atto di eroico ardimento femminile da parte di una fanciulla che, a differenza di Ifigenia, sacrificata dal padre Gamennone per propiziare la spedizione Achea contro Troia, si sacrifica invece spontaneamente e non per il bene della propria comunità, ma addirittura per onorare il nemico, quello che ha sterminato la propria famiglia e la propria città. E lei, non appena se ne accorse, pronunciò queste parole. Guerrieri di Argo, che avete distrutto la mia città, io muoio perché ho scelto di morire. Non toccatemi, offrirò la mia gola senza timore. Uccidetemi, ma lasciatemi libera, in due degli dèi, affinché io possa morire libera. Sono una regina e mi vergogno di essere chiamata schiava tra i morti. Un mormorio di approvazione percorse l'esercito. Il re Gamennone ordinò ai giovani di lasciare la vergine e essi, non appena udirono la sua parola decisiva, la lasciarono andare, poiché egli deteneva il potere supremo. E Polissena, quando sentì questo ordine del sovrano, afferrò il plepolo e lo lacerò dalla cima della spalla fino all'ombelico, mostrando i segni e il petto, stupendi di statua. E inginocchiandosi a terra, pronunciò le parole più intrepide. Ecco, giovane, colpisci mi al petto, se vuoi. Oppure, se preferisci, tagliami la gola. te la offro. Voleva colpire e non voleva, per pietà della fanciulla. Poi recide la trachea con la lama, sgorgano fiotti di sangue. Seppe cadere con pudore, morendo, e nascose ciò che si deve nascondere agli occhi dei maschi. E dopo che ebbe esalato l'ultimo respiro sotto il fendente esiziale, gli argivi si diedero da fare per lei in tutti i modi. Chi spargeva foglie con le sue mani sulla salma, chi ammassava tronchi di pino per il rogo, chi non faceva niente veniva rimproverato dagli altri con queste parole. Te ne stai immobile, infame, e non porti con le tue mani neanche un peplo, un ornamento alla fanciulla. Non vuoi proprio offrire nulla al suo coraggio, alla sua anima nobile. Nella seconda parte della tragedia, Ecuba, che già è prostrata dalla perdita di Polissena, come si è detto, viene anche raggiunta dalla notizia della brutale uccisione del figlio ultimo genito, ancora fanciullo Polidoro, appunto a suo tempo affidato al retraggio Polimestore, che era stato un grande amico di Ecuba e di Priamo, e che invece poi li ha traditi perché ha fatto a pezzi il ragazzo dopo la caduta di Troia, e per appropriarsi appunto dei tesori che Polidoro aveva con sé, ma anche per ringraziarsi il favore dei greci vincitori, Ecuba appunto, già prostrata da tutte queste sciagure, con la complicità delle prigioniere troiane che formano il coro, e persino dello stesso Agamennone, al quale aveva precedentemente ricordato l'obbligo di rispettare la legge greca che è poi fuori di metafora legge ateniese relativa ai delitti di sangue, per cui, per i quali la legge è uguale per tutti, tanto per gli uomini quanto per gli schiavi, questa Ecuba, distrutta dal dolore ma al tempo stesso invincibile, trama e realizza la sua vendetta con una furia sovrumana, subumana, disumana, cioè uccide gli inermi e innocenti figli di Polimestore, e acceca lo stesso re che aveva ucciso suo figlio. In quanto regina, ella impartisce ordini alle proprie schiave, cioè le prigioniere troiane che formano il coro, e da regina ella si rivolgerà al termine della tragedia persino ad Agamennone per giusificare il proprio operato in una sorta di processo imbastito dal re Acheo nei suoi confronti. È questo il segno della straordinaria capacità euripidea di dipingere anche le ambiguità del mondo servile, mondo servile nel quale continuano a sopravvivere le gerarchie proprie dell'originaria condizione libera e regale. Nel discorso che rivolge qui ad Agamennone per convincerlo ad aiutarla nella punizione di Polimestore, nella vendetta nei confronti di Polimestore, Ecuba esalta il nomos, la legge, e la peitò, la persuasione, come valori supremi. Sinu aggiunge a una logica impasse, secondo cui il nomos sarebbe più potente degli dèi, la legge sarebbe più forte degli dèi, addirittura governerebbe gli dèi, salvo poi aggiungere che la peitò, la persuasione, è la sola e unica tiranna degli uomini, quindi nomos e peitò sovrastano il volere degli dèi, non solo degli uomini, ma degli stessi dèi. La regina rimarca l'importanza di apprendere l'arte della persuasione anche a pagamento, come accadeva ad Atene con l'insegnamento dei sofisti. E proprio grazie al potere del logos e della peitò, cioè della parola e della persuasione, anche lei, come prima aveva fatto Andromaca con Ermione, riuscirà vincitrice nel confronto dialettico col suo padrone, Agamennone. Eppure lei, come Andromaca, schiava e perdente, proprio con la complicità del vincitore, paradossalmente, riuscirà a vendicare la memoria di Polidoro, suo figlio, nonché fratello di Cassandra, la profetessa con la quale ora Agamennone divide il suo letto. Un Agamennone che ancora una volta si trova dimediato tra le scelte che gli imporrebbe il suo esercito, la ragione di stato, e quelle che gli impone invece la sfera privata degli affetti, ma che è anche imbarazzato dal riconoscimento delle ragioni della regina troiana sconfitta. Ascoltiamo dunque ora uno stralcio di questo lungo confronto tra Ecuba e Agamennone, confronto che sancisce ancora una volta la superiorità, almeno e soltanto sul piano dialettico, dello schiavo, anzi della schiava Ecuba sul suo padrone Agamennone. Ma ascolta, perché mi getto alle tue ginocchia? Se ti sembra sacrosanto che io subisca quello che ho subito, mi rassegno. In caso contrario, vendicami di quell'uomo, del più empio tra gli ospiti, che ha compiuto il crimine più sacrilego senza alcun timore per gli dèi di sottoterra e del cielo. Aveva condiviso tante volte con me la mia tavola, aveva goduto della mia ospitalità più di chiunque altro dei miei amici, con ogni genere di attenzioni da parte mia. E ha ammazzato mio figlio, ma non si è accontentato di ucciderlo. Lo ha gettato in mare, non lo ha degnato di un sepolcro. Forse noi siamo schiave e impotenti, ma potenti sono gli dèi e la legge che li governa. Ed è per questa legge che noi crediamo negli dèi e stabiliamo i confini del giusto e dell'ingiusto. Ma se nelle tue mani sarà annientata e non la pagheranno coloro che uccidono gli ospiti o chi si azzarda a saccheggiare i templi degli dèi, allora non c'è più giustizia tra gli umani. Sai che sarebbe una vergogna e allora rispettami, abbi pietà di me. Guardami, come fa il pittore, con distacco, osserva le sventure che mi assalgono. Fui regina un giorno, ma adesso sono la tua schiava. Avevo bei figli, ma adesso sono vecchia e senza prole, senza città, sola, la più disgraziata tra i mortali. Oh, povera me, te ne vai via? Dove vai? A quanto pare non ho ottenuto niente. Povera me, ma perché noi mortali ci affanniamo, come è necessario, nello studio delle altre discipline, ma non ci impegniamo a imparare compiutamente, magari anche pagando un onorario, l'arte della persuasione, che è l'unica sovrana degli umani, in modo da riuscire a convincere gli altri a ottenere quello che si vuole. Che cosa posso sperare ancora di buono? Non ho più i figli che ancora mi restavano e io me ne devo andare via, prigioniera, umiliata. Lo vedo, si leva ancora il fumo della mia città. E se mi rivolgessi ad Afrodite? Forse non serve a nulla, ma glielo dirò lo stesso. Nel tuo letto dorme mia figlia, la profetessa che i frigi chiamano Cassandra. Come dimostrerai di apprezzare le sue notti, oh re? Quale ricompensa avrà mia figlia per i suoi amplessi? O quale ricompensa potrò avere io per lei? Stammi a sentire. Lo vedi questo cadavere? Se gli farai del bene, lo farai per tuo cognato. Ho ancora solo questo da dirti. Vorrei che le mie braccia, le mie mani, i miei capelli, i miei piedi avessero voce. Grazie alle arti di Dedalo o di un Dio. Come ti stringerebbero tutti insieme le ginocchia, piangendo, scongiurandoti con ogni genere di supplica. Oh Signore, grandissima luce dei greci, ascolta le mie preghiere. Offri a questa vecchia la tua mano vendicatrice, anche se non sono più nulla. Chi è nobile deve sempre mettersi al servizio della giustizia e colpire gli infami, sempre. Ho pietà di te, di tuo figlio e delle tue sciagure, Recuba. Ed è la tua mano che mi supplica. In nome degli dèi e della giustizia voglio concederti la punizione dell'ospite sacrilego, a patto che ci si renda conto che lo faccio per il tuo bene. E l'esercito non pensi che ho decretato la morte del re di Tracia per amore di Cassandra. È questo che mi preoccupa. L'esercito ritiene proprio amico polimestere e nemico il morto. E se a me sta a cuore il morto non è cosa che riguardi l'esercito. Riflettici. Sono disposto a soccorrerti e rapido aiutarti, ma sarò lento se ciò dovesse procurarmi la disapprovazione degli argivi. Oleis alleate, ma anche di quelle determinate a rimanere neutrali durante la guerra con Sparta, negli anni cruciali del conflitto peloponnesilaco, si riverbera con ogni probabilità anche nella vicenda mitica da cui prende le mosse la trama delle troiane, portate in scena ad Euripide nel 415 a.C. L'anno precedente gli ateniesi avevano aggredito l'isola di Melo, riluttante ad entrare nell'orbita di influenza ateniese. E anche in questo caso la popolazione maschile era finita massacrata e le donne e i bambini erano stati ridotti in schiavitù. Protagoniste della tragedia, come dice il titolo, sono le donne dei vinti dei troiane. Aver dato voce al gruppo sociale politicamente marginalizzato ed estraneo alla guerra è un fatto eccezionale, già che le vittime femminili denunciano col loro lamento gli effetti della guerra combattuta dagli uomini. La vicenda si svolge nella pianura davanti a Troia, già conquistata dai greci. Fin dai primi versi l'opposizione uomini vincitori versus donne pinte e dunque ridotte in schiavitù dai vincitori padroni, si traduce nel totale annientamento di queste ultime. Le donne di Troia che formano il coro non hanno alcuna capacità di iniziativa, né animano l'azione. Piangono la propria sorte, subiscono le decisioni dei vincitori e attendono il futuro che le condurrà altrove, lontano dalla propria patria, ormai perduta. La corrispondenza tra la comunità politica e il corpo di Ecuba che è accasciata al suolo sin dall'inizio del dramma è rafforzata dall'insistito impiego della metafora marinaresca. Ecuba paragona più riprese se stessa ad una nave in balia dalle onde, che nell'immaginario antico come in quello moderno è metafora dello stato squassato dalla guerra o da lotte intestine. Un corpo abbandonato sulla dura pietra una nave in balia dei marosi, ecco questi i gesti il corpo di Ecuba che mimano il fallimento di qualsivoglia iniziativa o strategia politica. Il corpo di Ecuba diventa così emblema della aberrante condizione servile e al contempo dell'annientamento della comunità che l'anziana regina rappresenta. La regina e la sua città rinviano specularmente l'una all'altra, rispecchiandosi nell'immagine del crollo e della prostrazione. Troia non c'è più e io non sono più una regina. Sono queste le prime parole che Ecuba pronuncia nel monologo che ora ascolteremo. Sollevati da terra sventurata, alza sulla testa, questo non è più Troia e noi non siamo più i re di Troia. La sorte si è arrobisciata, devi reggerne i colpi. Segui la rotta, naviga il tuo destino, non volgere la prua della vita contro le onde, costeggia gli eventi. Che cosa non dovrei piangere, povera me, ora che ho perso patria, figli e sposo? Oh, grande orgoglio degli antenati, ti hanno ammainato come una vela. Non eri proprio nulla. Perché dovrei tacere? Perché non tacere? Su che cosa dovrei levare il mio lamento? Povera me, così piegata, schiacciata a terra, la schiena distesa su un letto di pietra, la mia testa, i miei tempi, i miei fianchi. Come vorrei ricirarmi da una parte e dall'altra, intonando il lamento senza tregua delle mie lacrime tristi. È questa la musa degli afflitti, urlare sciagure che non ammettono danze. Oh, prue delle navi, che andaste alla città sacra di Troia, solcando con i remi rapidi il mare color della purpura, passando per gli approdi sicuri della Grecia, accompagnate dall'odioso peana dei flauti e dal suono melodioso dei pifferi, e le gaste legomene egizie nel golfo di Troia, inseguendo la detestabile sposa di Menelao, oltraggio per Castore e disonore per l'Eurota. Proprio lei, che ha fatto massacrare Priamo, padre di cinquanta figli, e ha fatto incagliare me Ecuba, infelice in questo lido di sventura. Oh, su quale trono siedo, vicino alla tenda di Agamennone, e mi trascinano via dalla mia casa, vecchia schiava degna di pietà, con la testa rasata al lutto. Oh, disgraziate spose dei troiani dalle lance di bronzo, e fanciulle, fanciulle dalle nozze infelici. Troia brucia, leviamo il nostro pianto. Come una madre e i suoi piccoli alati, leverò il grido. Sì, intonerò il canto. Ma non sarà quello che un tempo, appoggiandomi allo scettro di Priamo, innalzavo agli dei della frigia, al ritmo ben resonante del piede che governa la danza. Il ricordo della vita precedente rende tangibile la perdita di identità, in particolare da parte di Ecuba. Un tempo ella sedeva in trono, ora giace davanti alle tende dei vincitori. Un tempo ella era regina, circondata dagli sfarzi della corte, ora la tende una vita da schiava. Accasciata al suolo, si diceva prima, sin dal principio della tragedia, Ecuba rifiuta il soccorso delle sue ancelle che compongono il coro, le quali vorrebbero aiutarla a rialzarsi. A riprova, questo, della propria umiliante condizione e dell'assenza per lei di ogni speranza. Il ricordo del suo passato, della sua vita precedente, rende tangibile la perdita di identità, si diceva, di Ecuba nel presente. Ancora una volta il corpo di Ecuba, che le sue serve cercano di risolevare da terra, incarna plasticamente l'icona della comunità, ridotta in schiavitù, che ella rappresenta. Nella conclusione dello struggente discorso che ora ascolteremo, la regina troiana, riecheggiando la riflessione che il sapiente solone rivolge al ricco e potente creso, re Lidio, ricordata da Erodoto, dice che nessuno, neanche l'uomo più felice può ritenersi tale prima che sia morto. Voi che sorvegliate la vecchia Ecuba, non avete visto che la padrona sta cadendo a terra senza dire nulla? Non volete sollevarla? Volete lasciarla così, infami? Una vecchia che è caduta. Rimettetela in piedi. Lasciatemi a terra. Ciò che non si desidera non fa piacere. Fanciulle, quello che soffro e ho sofferto e soffrirò ancora è così atroce che mi abbatte al suolo. Oh dèi, ma sono cattivi alleati questi a cui mi rivolgo, eppure da un certo tono invocare gli dèi quando ci si trova nella sciagura. Prima preferisco celebrare le cose belle della mia vita. Poi dedicherò maggiori lamentazioni alle mie disgrazie. Fui regina e fui sposa di re e misi al mondo figli eccezionali. Non soltanto per il grande numero, ma perché erano i più eccellienti tra i frigi. E nessuna donna, troiana o greca o barbara, potrebbe mai vantarsi di averne generati di uguali. Ma li ho visti cadere sotto i colpi delle lance greche e ho tagliato questi capelli sui sepolcri dei loro cadaveri. E ho pianto Priamo, loro padre, non per averne sentito parlare. L'ho vista io stessa, mentre lo scannavano sull'altare della casa sotto i miei occhi e conquistavano la città. E le fanciulle che avevo cresciuto perché recassero onore agli sposi che le avrebbero scelte, le ho cresciute per altri e me le hanno strappate dalle mani. E non c'è nessuna speranza che possano rivedermi, né che io stessa possa rivedere loro. E infine, a coronamento delle mie sciagure, arriverò in Grecia come una vecchia schiava. E mi assegneranno le mansioni più pesanti per una vecchia. Fare la portinaia che custodisce le chiavi, io che sono la madre di Ettore. Oppure la panettiera. E dormire per terra con la mia schiena rugosa, io che ho dormito in letti regali. E vestire di stracci il mio corpo consunto. Vergogna, perché aveva vissuto nel benessere. Povera me, quali sventure si sono abbattute su di me e si abbatteranno ancora. Per una sola donna. per una sola unione nunziale. Oh figlia, Cassandra che condividi il delirio con gli dèi, in quali circostanze hai perso la tua castità? E tu dove sei, povera polissena? Di tanti figli che mi erano nati nessuno, né maschio né femmina, viene in aiuto di questa sventurata. Perché mi rimettete in piedi? Per quale speranza? Conducete questi miei piedi che un tempo a Troia erano delicati e adesso sono da schiava a un pagliericcio o per terra o a un drappo di pietra. Così potrò gettarmici sopra e morire consumata dalle lacrime. Non ritenete nessuno felice tra coloro che godono di buona sorte prima che sia trapassato. L'altro bersaglio della violenza Achea è, si diceva prima, Andromaca. Ancora ignara della sorte che attende il proprio figlio Assianatte, il superstite maschile della famiglia regale che di lì a poco sarà gettato dalle mura della città, Andromaca giunge in scena seduta su un carro col figlio detto al seno e le armi di Ettore al fianco. Esseri umani e oggetti inanimati compongono un quadro tetro che riassume l'esito del conflitto. La sposa di Ettore, che nel transito verso le navi ha visto il corpo di Polissena, tenta ora di consolare Ecuba. E gli dice che quello che sembra un male, cioè la morte, è in realtà un bene perché la morte elimina, alla radice, il tormento del ricordo. E questa è l'occasione per lei per parlare della propria personale disperazione e per diffondersi nel confronto tra passato e presente. Sin da Liliade, Andromaca, rappresenta il modello della moglie fedele e sulla scena euripidea ella non manca di porre in luce le proprie qualità. Ma proprio la compiuta incarnazione di ciò che una società androcratica si attende da una donna si traduce in un aggravio di sventura. Ella dice la fama della mia virtù è arrivata sino all'esercito greco ed è stata la mia rovina perché Neotolomo mi ha voluta per il suo letto e quindi io farò la serva in casa di un assassino. Dunque l'innocenza, lungi dall'essere premiata, diviene oggetto del desiderio del figlio di colui che ha sterminato la famiglia di origine, il padre, i fratelli e l'amato sposo. Andromaca si illude che dal buon uso del proprio corpo nella casa di Neotolomo possa dipendere la sorte propria e quella di Astianatte ma si illude in vano. Una volta concluso lo scambio dialettico con Ecuba, ella apprende invece che il figlio sarà ucciso e dunque Andromaca dovrà assistere al massacro di Astianatte. Aldun spiramus speramus di Ecuba, la quale piange la morte di Polissena, riconoscendo nell'essere morti una condizione peggiore rispetto a quella dell'essere vivi, appunto perché vivere significa sperare, Andromaca replica nella conclusione della sua ultima Resis, che ora ascolteremo, che alla propria situazione davvero senza speranza è preferibile all'opposto la morte. Per tutti i mortali è dolce anche il solo illudersi, ma a lei, schiava di guerra, vedova e madre di un figlio che ora le verrà strappato, non resta neanche la speranza. Oh madre, tu che hai generato figli, ascolta la parola più bella, che infonderà gioia nel tuo animo. Io dico che non essere nati è come essere morti. E essere morti è meglio che vivere nello strazio. Con lei che è morta non soffre perché non si accorge di nessuna sciagura, mentre chi ha vissuto nella felicità e cade in disgrazia si tormenta per la nostalgia della fortuna perduta. Quella è come se non avesse mai visto la luce. È morta e non sa nulla delle sue sventure. Io invece avevo aspirato a tenere una buona fama e ne avevo ricevuto anche più di quanto mi aspettavo. Ma ho mancato il bersaglio della fortuna. Mi impegnavo a praticare tutte le virtù femminili nella casa di Ettore perché giusta o non giusta che sia questa accusa, innanzitutto se una donna non sta in casa si procura una pessima reputazione. E allora io rimanevo a palazzo mettendo da parte questa smania di uscire. Non lasciavo che entrassero nel palazzo le chiacchiere smalizziate delle femmine. Mi bastava il mio intuito come valido maestro in casa mia e offrivo al mio sposo il silenzio della lingua e il volto sereno. Sapevo bene quando dovevo spuntarla su di lui, quando dovevo dargli la vinta. La fama di queste mie qualità giunse all'esercito argivo. E fu la mia rovina. Una volta catturata il figlio di Achille vuole prendermi in moglie. Farò la serva nella casa degli assassini e se allontanerò da me il ricordo del mio amato Ettore e dischiuderò il mio cuore allo sposo che mi ritrovo adesso, avrò il disprezzo del morto. Dicono che basti una notte per ammorbidire l'ostilità di una femmina nei confronti di un maschio. Ma io disprezzo la donna che per un nuovo lettore innega l'uomo di prima e dà il suo amore a un altro. Neanche una cavalla se viene separata dalla sua compagna riuscirà a tirare il suo gioco senza difficoltà. E dire che gli animali non hanno parola né intelligenza e sono inferiori per natura agli umani. Io avevo te come mio sposo amato Ettore e mi bastavano la tua grande intelligenza, la tua grande nobiltà, la tua ricchezza, il tuo coraggio. Mi cogliesti pura dalla casa del padre e fosti il primo a giocare la mia virginità. Adesso sei morto e mi imbarcano come prigioniera per la Grecia dove mi imporranno il gioco della schiavitù. La morte di Polissena che tu piangi non è forse sventura inferiore al mio strazio. Non mi resta neanche ciò che resta a tutti i mortali, la speranza. E non mi illudo all'idea che andrà tutto bene. Eppure è cosa dolce anche soltanto illudersi. Grazie. 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 Grazie.